Eccomi qui ragazze Allora, dal dottore vi lo state chiedendo in tanti praticamente è un'infezione un brufolo che ha fatto infezione perché ho le difese immunitarie basse e quindi l'ho toccato e mi ha fatto infezione adesso sto mettendo la crema antibiotica non è herpes comunque per tutte quelle che me l'hanno scritto non è herpes anche io pensavo, infatti avevo già iniziato con la crema per l'herpes no, meno male che sono andata al medico è importante, andate sempre dal medico perché vedete, magari continuavo invece l'infezione continuava a ingrandirsi quindi adesso sistemiamo questa cosina e nel mentre, tornando prima di andare a casa mi sono fermata nel mio centro preferito in Brianza ovviamente a farmi un trattamento per sgonfiarmi le gambe visto che domani ho uno shooting sono gonfia quando sono uscita dalla casa piena di ritenzione sono venuta a farmi il trattamento che ora vi pubblico oh nipoti di noi auguriamo a Greta tutta la salute del mondo anch'io avevo azzardato herpes perché era quasi quasi evidente e anche quella spesso dipende da momenti brutti stress, difese immunitarie basse invece sono contenta che sia solamente un brufolo che ha fatto infezione perché l'herpes poi può tornare fuori è fastidiosa vi lascio così ciao grazie a tutti